Marmellata di amarene Ecco le proporzioni Ogni 500 grammi di amarene denocciolate 180 grammi di zucchero Lavatele amarene Eliminate il picciolo E denocciolatele Raccogliendo in una ciotola Il succo che userete Diluito con l'acqua Per fare una bibita Spezzate qualche nocciolo E estraetene il seme E tenetelo da parte Pesatele amarene e lo zucchero Secondo la proporzione indicata Mettete zucchero e amarene In una casseruola Unite anche i semi Dei noccioli tenuti da parte E ponete il recipiente sul fuoco A cuocere Senza aggiungere acqua Mescolando con cura Fino a ottenere Un composto denso Che vela il cucchiaio A quel punto ritirate Travasate in vasetti Lasciateli raffreddare Copriteli con un dischetto Di carta pergaminata E se volete Potete spruzzare Con un goccio di grappa Chiudeteli ermeticamente Buon appetito Buon appetito